Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Salve Impos e oggi ritorniamo nuovamente su Castle Crash Perché come vi avevo anticipato lunedì avrei fatto un altro video nel momento in cui, se ricordate bene, nel momento in cui ottenevo L'offerta speciale del baule leggendario, del forse leggendario Quindi finalmente avrò la mia prima leggendaria anche su Castle Crash Ma non solo una perché qui ne danno 2 per 800 gemme Quindi veramente fighissimo, non so se effettivamente ne danno 2 diverse oppure 2 della stessa leggendaria Intanto ci andiamo ad aprire questi inutilissimi forzieri gratis, proprio inutilissimi, veramente tantissimo Ok, scudi e elemento del fang, apriamoci questa argentina che è più inutile dell'altro Ok, carte inutili veramente Un altro forziere gratuito che se non lo danno è veramente credo che sia la stessa cosa Doniamo un po' di cartine e richiediamo, vediamo un po' l'inferno Ok, quindi direi subito di non perdere altro tempo e gustiamoci questo fantastico forziere leggendario del castello 5 Prima di aprirlo però vediamo che cosa possiamo ottenere, va Ah, tra l'altro se non l'avete notato sono di nuovo sceso di arena Lunedì era arrivato al 6, oggi sono di nuovo al 5 Fantastico Allora, come castello 5 potremo ottenere la regina arcera che è veramente fortissima Poi possiamo ottenere la strega nera che è la mia preferita credo, io vorrei questa effettivamente Oppure lo stregone, eh sì effettivamente lo stregone è abbastanza forte anche se io preferirei o la strega nera oppure la regina arcera Quindi, ok, adesso è arrivato il momento ragazzi Concentriamoci ragazzi, concentratevi insieme a me perché dobbiamo aprire questo forziere Quindi andiamoci a spendere queste gemmine E anche in questo caso io non ho shoppato Gli sviluppatori del gioco mi hanno donato queste gemmine per fare appunto i video e portarveli Ma non so se effettivamente me ne regaleranno delle altre Quindi usiamole con parsimonia Intanto il forziere leggendario me lo apro assolutamente Quindi utilizziamo oro zero, proprio zero, proprio una moneta, una moneta me la potete mettere però Niente, proprio niente Pure il forziere leggendario lo tirchi Quindi spendiamo 800 gemme come se fossero gratis e otteniamo Sbangte La regina arcera, sono contento ugualmente Oh, ha due, due, quindi la possiamo potenziare E credo che faccia sederini come se non ci fossero domani Ok, la regina arcera è mitica Abbatte il castello solo lei se è difesa bene Quindi ora effettivamente dovrei farmi un deck solo per lei Adesso io non so come però Monete non ne abbiamo, oh sì Pagando 110 gemme Forse i rimagici non ne possono nemmeno aprire più Ma sì, io quasi quasi la farei pure al 2 Mamma, chi se ne frega, va Facciamola al 2 immediatamente Cara regina arcera, tu sarai la mia preferita Ok, attacco 189 519 salute 48 bonus di attacco a distanza Oh, adesso facciamo sederini Allora, ci facciamo un deck Facciamoci un deck con la regina arcera Ovviamente deve essere difesa Adesso io devo capire un po' come utilizzarla Perché io non la so utilizzare Allora, innanzitutto lei, assolutamente In uso Un'altra No, non la posso usare un'altra C'è una sola, una leggendaria Per ogni deck Che cacchie Le altre tutte due E lei solo una Mettiamo due cavalieri neri Ragazzi, io non ho proprio idea di come fare questo deck La cura ci può essere utile? Non lo so, credo di no Mettiamo il metamorfo Le frecce mi vanno bene Non so quanto possa funzionare effettivamente Perché lo sto facendo un po' a caso Ok, carte Sto utilizzando delle carte poco potenziate Proviamo, proviamo Più di perdere non posso fare Tanto sono abituato a perdere Effettivamente adesso devo vedere un po' che deck fare Perché questo non lo so Non mi convince molto Allora, utilizziamo il nostro giullare All'inizio Abbiamo la regina pronta Ma non la posso utilizzare Ovviamente Quindi direi di andarci di Driade qui Anche lui Mi copia Sei un copione, tizio Come quello di lunedì Eeeh Poi che facciamo? Scartiamo un cavaliere nero Lì sotto attacchiamo Ma allo stesso tempo attacchiamo anche con un maghetto da questa parte Che faccio? Che faccio? Utilizziamo questo Utilizziamo che cosa? La regina arciera ovviamente no Metterei anche questo qui Quindi che faccio? Che faccio? Schiaro la regina arciera Dove però? Scriviamo qui Vediamo Vediamo Usiamola Va Non me ne frega niente Utilizziamola Utilizziamola Ovviamente lui ci mette tutto contro Aspetta Se vabbè Quando ci arrivi Tu devi uccidermi la regina qua Ok Utilizziamo lui Utilizziamo il metamorfo qui Che se ho fortuna Mi copia La regina arciera No Siccome non ho fortuna Utilizziamo la cimitero Ok Attaccate Quella cacchio di Driade Aspetta Dobbiamo schiarare il cavaliere Tizio Cavaliere Cavaliere nero Cavaliere nero Qua Proteggiamo la regina La regina La regina Proteggiamo la regina Aiuto Proteggiamo la regina Proteggiamo la regina A tutti i costi Questo lì Facciamo un po' di danni Con le frecce Eeeh Proteggiamo la regina E proteggiamo Anche qui Proteggi Quello si sta rassegnando Praticamente ad attaccare Sta attaccando dall'altro lato Ma se ne sta fregando Della regina Beatamente Quindi attaccherei Anche da qui La regina sta colpendo Come se non ci fosse un domani Quindi proteggiamola Ok Protegge La regina è morta Per quel maledetto Mettere Metterei anche un'altra regina Mettiamola qui Metti Sta facendo più danni lui però Con queste balestre a distanza Che rottura di scatole Attaccate 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 Vai regina Uccidi Vai Cavaliere nero Proteggili Uccidi tutto il mondo Niente E ha vinto quel Bastardo Bastardo Ma fregato Allora io sto deck Non l'ho capito Tanto bene Facciamo un'altra battaglia Ragazzi consigliatemi deck Per utilizzare la regina arcera Chiunque ce l'avesse Sprechiamo un cavaliere nero Aspettiamo il tizio che fa Ma non fa niente Quindi direi di andarci di driade Copiamo la driade Sperando che lui non schiera niente Ok Driade copiata Adesso che fai giochi tizio Gioco da solo Ma a me mi fa un piacere Se gioco da solo Schieriamo lo stregone qui Tizio mi fa un piacere Ah ok Ok Utilizziamo subito questo corridore Il guerriero vai Vai a proteggere La driade Corridore Non l'ammazzare però Ok si sono Auto Vai resuscitiamole Resuscitiamole Bravi Bravi Ok corri tizio Come se non ci fosse domani Forza 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 Mettiamo la regina arcera qui A proteggere tutto Effettivamente la cura ci voleva Perché devo curarmi la regina arcera Mettiamo il mago qui Me l'ha uccisa Certo quando le utilizzo io Le leggendari hanno tutti la fulmina Non so perché Chissà perché Chissà perché Chissà perché Ora che ce l'ho io Sono tutti muniti di fulmine Adesso vi faccio un po' il sederino In modo normale Come so fare io Con i miei cavalieri neri Con i miei cavalieri neri C'è tizi con fulmine E fuoco con Veramente C'è guardate qua Hanno tutti Carte con cui farmi il sederino E allora Tu uccidi quelli Io direi di andarci così Sbang Proteggiamo un po' Quel maghetto Andiamoci di driade qui Uccidiamo un po' di scheletrini Mettiamo anche noi Il cavaliere nero E perché mi hai colpito Quella driade Maledetto Maledetto C'è il cavaliere davanti Perché mi hai colpito La driade Riusciamo a resuscitare qualcuno No Ovviamente Uccidiamo gli scheletrini E che faccio Ok Cavaliere nero Giullare Cristallo Adesso mettiamo la regina arcera dietro Vai Uccidi regina nera Non ti farà ammazzare Regina nera Regina nera Non ti farà ammazzare Ok Uccidi Uccidiamo un po' di cose Via regina arcera Ok Attacchiamo Facciamo retrocedere tutto Questi li mettiamo qui Eh Tutti la fulmine hanno Tutti ce l'hanno sta fulmine Quando io gioco le cose Che faccio Che faccio Che faccio Che fa questo qui Questo qui Questo qui Questa qui Veloce Uccidi 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 Mettiamo il metamorfo qui Vediamo che cosa riusciamo a copiare Ti pareva Questo ovviamente non risusciterò niente Metamorfo qui Ragazzi Mi sa che il deck Senza leggendaria Mi girava meglio Mi girava Forse non lo so usare Forse non so usare La regina arcera Forse non la so usare Niente Allora Al posto della cimitero Qua mettiamo La cura E quasi quasi Metterei lui Al posto di lui Così vediamo Se riusciamo A utilizzare Un tank Davanti La La regina arcera Andiamo a perderne un'altra Non mi ci trovo Forse la strega nera Era migliore Allora Cominciamo Con Il guerriero Vai guerriero Vai guerriero Colpisci Colpisci Guerriero Dagli Quattro spadate Tu mi congeli Ma perché Intanto spreco Un cavaliere nero Tu mi congeli Per prendere tempo Vero tizio Perché sei Un bastardino Io pure Prendo tempo Tizio Non lo prendo Prendiamo un po' di tempo Copiamo qualcosa O andiamo Di frecce Andiamo di frecce Andiamo di frecce Mettiamo il mago Qui Che faccio Che devo fare Che devo fare Mettiamo questo qui Vediamo se mi copia l'orco Ok Copiato l'orco Mettiamo Il tank Qui Il golem E schieriamo La regina arcera No troppo veloce Vai orco Troppo veloce Vai orco Ok Mettiamo la regina arcera Qui Fulmine Sicuro Sicuro di fulmine Proprio sicuro Mettiamo Lei qui Lei mi attacca a distanza Mettiamo anche un bel mago qui Ovviamente Lui mi schiera quello Io direi di andarci anche di cavaliere nero Qua Messo qui Mettiamo tutti i tank di questo mondo qui Ok Lui forse Non ha fulmine Non ha niente Quindi Schieriamo qui Come se non ci fosse un domani Curiamo un po' di gente Che quasi stanno Ma dov'è la regina È morta la regina Dov'è la regina È morta Come è morta Ah con quel coso che è spuntato Ovviamente è morta la regina No ma veramente Oh ma veramente Cioè me la uccitano come se nulla fosse Ok Quindi treggiamo qui Cura qui Utilizziamo gli maghi dietro Questo c'ha un inferno Che sembra il fuoco di Sant'Antonio Di quanto è forte Ragazzi io ve lo dico Io con tutte le leggendarie Con tutti i regali Che mi hanno fatto delle gemme Io sto gioco Lo disinstallo lo stesso Cioè non mi frega niente Cioè possibile tre partite Tre partite perse Tre partite perse Con tutta la leggendaria Al 2 pure Quindi Questo vi fa capire Quanto Quanto le vostre carte Qualsiasi sia il loro livello Qualsiasi sia il vostro deck Non conti un cacchio Nel momento in cui Vi si attiva lo script Che decide che dovete perdere Io quasi quasi ne farei un'altra Con il mio deck solito Forse sono io che non so giocare La regina arciera Proprio con il mio deck solito Vai Andiamo con questo Se perdo veramente con questo Veramente Veramente Lo disinstallo ora all'istante Vediamo 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 Tu già ti curi il castello Io mi utilizzo il cristallo Cavaliere nero lo bruciamo Adesso ti fulmino la driade O no Che faccio Proviamo Vediamo a vedere No te la copio No la morte Non copiere la morte Tanto sono forse sfortunato Che ho copiato la morte Adesso non mi schiera Gli scheletrini sicuro Sbengte Ok Quanto meno abbiamo ucciso Quella maledetta Utilizia Uccidiamo la morte Aghendo Qua mettiamo questo Il giulare Aghendo Che cacchio dice Ancora non l'ho capito Mettiamo il mago qui Mettiamo Il boia qui Prima che il giulare Mi muoia Ok Giulare ovviamente Destinato alla morte Vediamo quel boia Che cosa fa Utilizziamo il cavaliere nero Qui Vediamo se possiamo Curare No Uccidiamo Quel Quel coso Che sta arrivando Che è arrivata Effettivamente Lui non gliene sta fregando Più di niente Proprio non difende niente Quindi attacchere Dall'altro lato Con il metamorfo Eh Perfetto Mettiamo un po' di bomba Qui Curiamo Eh Proteggiamoci Da questi qua Con un po' Di Ok Attacchiamo qui Uccidiamo Sto maledetto Basta Ma muori Sto cacchio Dico Uccidilo Ok Utilizziamo questo E utilizziamo Un altro Cavaliere nero Qui Uccidiamo Quei maledetti Scheletrini Ok Ok Lui non sa più Che cacchio Deve schierare Per riuscire A fermarmi Utilizziamo Un altro Cavaliere nero Qui Effettivamente Effettivamente Le cose Sono un po' Cambiate Effettivamente Ragazzi Non so E non so Utilizzare La regina Arcera io Perché con questo Effettivamente vinco Non lo so O mi si è sbloccato Lo script Oppure Non so Utilizzare la regina Arcera io Quindi datemi consigli Su come utilizzarla A solito Vi piacerebbe Se uscire un bel like Vi ricordo di più Se iscrivetevi Anche su Facebook Twitter Se come tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E poi c'è tutto Al prossimo video E oggi siamo Su un nuovo gioco Ovvero Plants vs Zombies 2 Il primo è stato Veramente fighissimo Adesso vediamo Un po' il secondo Che dovrebbe comunque Ricalcare Il precedente Piantiamo piantini Come se non ci fossero domani E poi c'è un po' il secondo E poi c'è un po' il secondo